ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi un nuovo video questo è un refill fatto ad una mia amica gli sono cresciuto moltissimo queste unghie e a parte come vedete nel medio che io ho ricostruito l'unghia e non mi ricordo se ho messo due o tre tip adesso non ricordo ma in questa mano che vedete che è la sinistra io ho fatto allungamento solo nel medio e poi si nota benissimo dall'anulare che è finita insomma e niente ha scelto di farsi questa volta tutte unghie nere a parte l'anulare che metterò un brillantinato è un argento diciamo con dei micro brillantini arcobaleno all'interno e questo nero ovviamente poison black di passioni unghie sempre due passate infine ultra gloss lucido e l'olio cuticole io spero che il video vi piacerà se sarà così metterete il pollice su se volete sotto nei commenti mi commentate e niente vi lascio la visione del video e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao